Frank Nonostante la calura di mezzogiorno e la furiosa tempesta di energia letale, un gruppo di turisti stava andando verso le rovine. Per fortuna non erano molti e nessuno di loro si soffermò a guardare i semidei. Dopo le folle di Roma, Frank aveva smesso di preoccuparsi troppo di essere notato. Se con la nave da guerra erano riusciti ad atterrare nel Colosseo con le baliste in azione senza neppure rallentare il traffico, allora potevano farla franca in qualsiasi situazione. Nico si mise alla testa del gruppo. In cima alla collina i ragazzi salirono su un vecchio muro di sostegno per poi scendere in un fosso artificiale. Alla fine arrivarono di fronte a un portale di pietra che conduceva dritto nel fianco della collina. La tempesta sembrava nascere proprio sopra le loro teste. Nel guardare i vorticanti tentacoli di oscurità, Frank ebbe la sensazione di essere intrappolato in fondo alla tazza di un gabinetto. Il che non lo tranquillizzò affatto. Il figlio di Ade si girò verso il gruppo. «Da qui in poi il gioco si fa duro!» «Fantastico!» commentò Leo. «Perché finora è stata una passeggiata!» Nico gli lanciò un'occhietaccia. «Vedremo per quanto manterrà il tuo senso dell'umorismo!» «Ricordatevi, qui è dove venivano i pellegrini a comunicare con i loro antenati! Sotto terra potreste vedere cose difficili da guardare o sentire voci che cercheranno di sviarvi!» «Frank, hai le focacce d'orzo?» «Come scusa?» Frank stava pensando alla madre e alla nonna. «Gli sarebbero apparsi?» Per la prima volta da giorni, le voci di Ares e di Marte avevano ripreso a litigare in un angolo della mente. Stavano discutendo delle forme di morte violenta che preferivano. «Le ho prese io!» intervenne Hazel. Tirò fuori le magiche focaccine d'orzo che avevano preparato con i cereali di triptolemo. «Mangiatele!» ordinò Nico. Frank masticò la propria focaccina della morte e tentò di non vomitare. Sembrava un biscotto fatto di segatura. «Ah!» Nemmeno Piper riuscì a trattenere una smorfia. «Bene!» Nico trangoggiò l'ultimo pezzo di focaccia. «Ci dovrebbe proteggere dal veleno!» «Veleno?» domandò Leo. «Mi sono perso il veleno? Io ne vado matto!» «Arriverà presto!» promise Nico. «State vicini! Così magari evitiamo di perderci o d'impazzire!» E su questa nota felice li condusse sottoterra. La galleria scendeva in dolci spirali, sorretta da archi di pietra bianca che a Frank ricordarono la cassa toracica di una balena. Mentre camminavano, Hazel passava le mani sui muri. «Questo non faceva parte di un tempio dell'antica Grecia!» sussurrò. «Era il seminterrato di un castello, costruito in epoca successiva!» Frank trovava strano che Hazel intuisse così tante cose di un luogo sotterraneo semplicemente visitandolo. Per quanto ne sapeva lui, l'istinto non l'aveva mai tradita. «Un castello?» domandò. «Non dirmi che siamo nel posto sbagliato!» «La casa di Ade si trova sotto di noi», lo rassicurò Nico. «Ma Hazel ha ragione. I livelli superiori sono molto più recenti. Quando gli archeologi hanno cominciato a scavare questo sito, erano convinti di aver trovato il Necromantion. Poi si sono accorti che le rovine erano troppo moderne e hanno concluso che non era il punto giusto. Ma la loro prima ipotesi era corretta. Semplicemente, non sono scesi abbastanza in profondità». Girarono un angolo e si fermarono. Davanti a loro, la galleria finiva in un enorme blocco di pietra. «Una frana?» domandò Jason. «Una prova!» rispose Nico. «Hazel, vuoi fare tu gli onori di casa?» Hazel avanzò. Appoggiò una mano sulla pietra e il masso si integrò in polvere. La galleria tremò. Sul soffitto si aprirono crepe. Per un terrorizzante attimo, Frank ebbe paura che sarebbero finiti schiacciati sotto tonnellate di terra. Una morte deludente dopo tutto quello che avevano passato. Poi il boato cessò. La polvere tornò a posarsi. Una scalinata curva si addentrava ancora di più nel terreno. Il soffitto a botte era sorretto da altri archi ravvicinati, fatti di una pietra nera e levigata. Guardandoli, Frank ebbe le vertigini. Era come osservare uno specchio che rifletteva all'infinito. Sulle pareti erano dipinte immagini rudimentali, di bovini neri che camminavano verso il basso. «Non ho un grande amore per le mucche», commentò Piper. «Neppure io», disse Frank. «Quelle sono le mandrie di Ade», spiegò Nico. «Sono un simbolo di… Guardate!» Frank indicò qualcosa. Sul primo gradino della scalinata scintillava un calice dorato che conteneva un liquido verde scuro. Frank era sicuro che un attimo prima non ci fosse. «Urrà!» esclamò Leo senza entusiasmo. «Immagino che sia il nostro veleno!» Nico sollevò il calice. «Siamo davanti all'antica entrata del Necromantion. Ulisse è venuto qui, come decine di altri eroi, a chiedere consiglio ai morti.» «E i morti non gli hanno consigliato di darsi la gambe?» domandò Leo. «Non sarebbe stato un brutto consiglio», ammise Piper. Nico beve dal calice, poi lo offrì a Jason. «Mi hai parlato di fiducia, di un rischio da correre.» «Bene, eccoti qua, figlio di Giove. Quanto ti fidi di me?» Frank non sapeva di cosa parlasse Nico, ma Jason non esitò. Prese la coppa e beve. Si passarono il calice e ciascuno beve un sorso di veleno. Aspettando il proprio turno, Frank tentò di impedire che gli tremassero le gambe e gli si torcessero le budella. Chissà cosa avrebbe detto sua nonna, se lo avesse visto. «Stupido che non sei altro! Fai, Zhang!» lo avrebbe rimproverato. «Se tutti i tuoi amici bevono del veleno, lo fai anche tu?» Frank fu l'ultimo ad assaggiare quel liquido verde, che sapeva di succo di mila andato male. Alla fine, la coppa si trasformò in fumo nelle sue mani. Nico Annui, soddisfatto. «Congratulazioni! Ora, supponendo che il veleno non ci uccida, dovremmo essere in grado di orientarci attraverso il primo livello del Necromantion!» «Solo attraverso il primo livello?» domandò Piper. Nico si girò verso Hazel e indicò la scalinata. «Dopo di te, sorella!» A Frank bastò un attimo per sentirsi completamente smarrito. Le scale si dipartivano in tre direzioni diverse. Non appena Hazel sceglieva un percorso, quelle si dividevano di nuovo. I ragazzi procedevano attraverso gallerie interconnesse e rozze camere sepolcrali che sembravano tutte uguali. Scavate nelle pareti c'erano nicchie polverose che in passato probabilmente ospitavano i defunti. Gli archi sopra le porte erano decorati con vacche nere, ioppi bianchi e uccelli, che sembravano gufi o civette. «Credevo che la civetta fosse il simbolo di Minerva», disse Jason. «Ma il gufo è uno degli animali sacri di Ade», spiegò Nico. «Il suo canto è di malaugurio». «Di qua!» Hazel indicò una porta che sembrava identica a tutte le altre. «È l'unica che non ci crollerà addosso». «Ottima scelta, allora», commentò Leo. Frank cominciò ad avere la sensazione di lasciare il mondo dei vivi. Si sentiva formicolare la pelle e pensò che forse era un effetto collaterale del veleno. La sacca che conteneva il pezzo di legno sembrava più pesante. Nel bagliore irreale diffuso dalle armi magiche, gli amici sembravano spiriti tremolanti. L'aria fredda gli accarezzò la faccia. Nella mente Ares e Marte si erano acquietati, ma Frank sembrò di udire altri sussurri nei corridoi laterali, che lo imploravano di cambiare strada, di avvicinarsi e ascoltare quello che dovevano dirgli. Alla fine raggiunsero un'arcata scolpita con figure a forma di teschi umani. O forse erano davvero teschi umani incastonati nella roccia? Sotto la luce dello scettro di Dio Cleziano. Sembrava che le loro orbite oculari ammicassero. Quando Hazel gli posò una mano su un brazzo, per poco Frank non sbatté la testa contro il soffitto. «È l'entrata del secondo livello», annunciò lei. «Sarà bene che prima dia un'occhiata». Frank non si era neppure accorto di essersi messo davanti alla soglia. «Eh, sì». Le fece spazio. Hazel passò le dita sui teschi scolpiti. «Nessuna trappola sulla soglia, ma c'è qualcosa di strano qui. I miei poteri sotterranei sono... sono disorientati, come se qualcuno stesse cercando di confondermi, nascondendo cosa ci aspetta». «La maga di cui ti ha parlato Ecate?» provò a indovinare Jason. «Quella che Leo ha visto in sogno? Come si chiamava?» Hazel si morse un labbro. «Meglio non pronunciare il suo nome, ma state allerta. Di una cosa almeno sono certa. Da qui in poi, i morti sono più potenti dei vivi». Frank non capiva come facesse a saperlo, ma le credeva. Travide dei movimenti fra le ombre. Da come gli occhi degli amici dardeggiavano intorno, intuì che pure loro vedevano qualcosa. Le voci nell'oscurità sembravano sussurrare più forti. «Dove sono i mostri?» domandò. «Credevo che Gea avesse un esercito a sorvegliare le porte della morte». «Non lo so», rispose Jason. La sua pelle era pallida e verdognola come il veleno del calice. «A questo punto preferirei quasi uno scontro diretto». «Attento quello che desideri, amico». Leo evocò una sfera di fuoco e una volta tanto Frank fu felice di vedere le fiamme. «Personalmente spero che non ci sia nessuno in casa. Entriamo, troviamo Percy e Annabeth, distruggiamo le porte della morte e ce ne andiamo. E magari ci fermiamo al negozio di souvenir». «Esatto», commentò Frank. «Andrà sicuramente così». La galleria tremò. «Una pioggia di detriti cadde dal soffitto». Eisel afferrò la mano di Frank. «C'è mancato poco? Questi corridoi non dureranno ancora per molto. Le porte della morte si sono appena riaperte», spiegò Nico. «Succede ogni quindici minuti più o meno», notò Piper. «Ogni dodici», la corresse Nico, senza però spiegarle come mai lo sapeva. «Sarà meglio che ci sbrighiamo. Percy e Annabeth sono vicini e sono in pericolo. Lo percepisco». Mentre scendevano in profondità, i corridoi si allargavano. I soffitti, ormai alti almeno sei metri, erano ornati con elaborati dipinti di civette appollaiate su rami di pioppo bianco. La maggior ampiezza avrebbe dovuto essere un sollievo, ma l'unico pensiero di Frank al momento era la situazione tattica. Le gallerie erano abbastanza grandi per grossi mostri e perfino per i giganti. C'erano angoli ciechi ovunque, perfetti per gli agguati. Il gruppo di semidei avrebbe potuto essere colto sul fianco circondato tranquillamente. Non avrebbero avuto nessuna possibilità di ritirarsi. L'istinto suggeriva a Frank di uscire da quelle gallerie. Se nessun mostro era visibile, significava solo che si stavano nascondendo, in attesa di far scattare la trappola. Tuttavia non poteva farci niente. Dovevano trovare le porte della morte. Leo tenne il fuoco vicino alle pareti. Frank scorse sulla pietra graffiti risalenti all'antica Grecia. Non conosceva il greco, ma immaginò che fossero preghiere o suppliche ai morti, scritte dai pellegrini migliaia di anni prima. Il pavimento della galleria era cosparso di frammenti di ceramica e monete d'argento. Offerte? Tirò a indovinare Piper. Sì, rispose Nico. Se volevi che i tuoi antenati apparissero, dovevi offrire un obolo. Allora noi evitiamo di darlo, suggerì Jason. Nessuno trovò nulla da obiettare. Da qui in poi la galleria è instabile, gli avvisò Hazel. Il pavimento potrebbe... Beh, seguitemi e basta. Mettete i piedi nel punto esatto in cui li metto io. Frank camminava dietro di lei, non perché si sentisse particolarmente coraggioso, ma perché voleva starle vicino nel caso in cui lei avesse avuto bisogno del suo aiuto. Le voci degli dèi della guerra avevano ripreso a discutere nella sua mente. E lui avvertiva il pericolo, vicinissimo ormai. «Fai, Giang!» Frank si bloccò di colpo. Quella voce non era di Ares né di Marte. Sembrava che fosse lì accanto a lui, come se qualcuno gli avesse sussurrato in un orecchio. «Frank?» Jason gli mise una mano sulle spalle. «Eisel, fermati un attimo!» «Frank, cosa c'è che non va?» «Niente, ho soltanto...» «Pilos!» disse la voce. «Gli aspetto a Pilos!» Frank ebbe la sensazione che il veleno gli risalisse nella gola. Aveva avuto paura tante altre volte. Aveva perfino affrontato il dio della morte. Ma quella voce lo terrorizzava in modo diverso. Gli risuonava fin nel midollo, come se sapesse tutto di lui. La sua maledizione, la sua storia, il suo futuro. Sua nonna aveva sempre avuto il pallino del culto dei morti. Era una tradizione cinese. Gli spiriti andavano placati e andavano presi sul serio. Frank aveva sempre pensato che le superstizioni della nonna fossero sciocchezze. In quel momento cambiò idea. Non aveva dubbi. Quella voce apparteneva a uno dei suoi antenati. «Frank, non ti muovere!» Eisel sembrava spaventata. Lui guardò in basso e si rese conto che stava per mettere un piede fuori posto. «Per sopravvivere, devi condurre tu!» continuò la voce. «Al crollo, devi prendere tu il comando!» «Condurre dove?» chiese il figlio di Marte. Ma la voce era già sparita. Frank ne percepiva l'assenza, come se l'umidità fosse crollata all'improvviso. «Amico?» fece Leo. «Potresti evitare di andare fuori di testa, per favore?» «Grazie». Tutti gli sguardi erano puntati su Frank. «È tutto a posto?» riuscì a dire. «Solo una voce?» «Niko annui. «Vi avevo avvisato. E peggiorerà. Dovremmo...» Hazel sollevò una mano per farli tacere. «Aspettate qui, tutti quanti!» A Frank la cosa non piacque, ma Hazel avanzò decisa da sola. Lui contò fino a ventitré prima che la ragazza tornasse indietro, con la faccia contratta e pensierosa. «La prossima stanza fa un po' paura», gli avvisò. «Non fatevi prendere dal panico!» «Un po' difficile conciliare le due cose», brontolò Leo. Ma la seguirono tutti nella grotta. Sembrava una cattedrale rotonda, con il soffitto talmente alto che si perdeva nell'oscurità. Decine di altre gallerie conducevano in varie direzioni e ciascuna riecheggiava di voci spettrali. La cosa che innervosi Frank fu il pavimento. Era un mosaico raccapricciante di ossa e pietre preziose. Postole e femori umani attorcigliati e fusi insieme a formare una superficie levigata, punteggiata di diamanti e rubini. Le ossa formavano dei motivi, come scheletrici contorsionisti che fanno acrobazie e si arrotolano a proteggere le pietre preziose. «Una danza di morte e di ricchezza!» «Non toccate niente!» ordinò Hazel. «Non ne avevo la minima intenzione!» mormorò Leo. Jason scrutò le uscite. «Da che parte adesso?» «Una volta tanto, Nico sembrava indeciso.» «Questa dovrebbe essere la sala dove i sacerdoti invocavano gli spiriti più potenti! Uno di questi corridoi conduce più in profondità nel tempio, al terzo livello e all'altare di Ade in persona.» «Ma quale?» «Quello!» Frank indicò un punto. Su una soglia all'estremità opposta della sala, lo spettro di un legionario romano li chiamava con un cenno della mano. Aveva la faccia nebbiosa indistinta, ma Frank ebbe la sensazione che lo spettro guardasse dritto verso di lui. Hazel corrugò la fronte. «Perché quello? Non vedi lo spirito?» «Lo spirito?» Nico era stupito. «Ok, se lui vedeva uno spirito che i figli degli inferi non riuscivano a vedere, c'era di sicuro qualcosa che non tornava», si disse Frank. Gli sembrò che il pavimento vibrasse sotto i suoi piedi. Poi si accorse che vibrava sul serio. «Dobbiamo raggiungere quell'uscita!» disse. «Subito!» Hazel dovette quasi placcarlo per impedirglielo. «Aspetta, Frank! Il pavimento non è stabile e sotto... beh, non so cosa ci sia sotto. Devo individuare un percorso sicuro. Sbrigati allora!» Frank tese l'arco e accompagnò Hazel, camminando alla massima velocità a cui osava andare. Leo si precipitò dietro di lui per fargli luce. Gli altri difendevano le retrovie. Frank capì di aver spaventato gli amici, ma non poteva farne a meno. Sentiva nelle viscere che avevano solo pochi secondi prima che... davanti a loro lo spettro del legionario evaporò. Nella grotta rimbombavano ruggiti mostruosi, decine, forse centinaia di nemici che arrivavano da ogni direzione. Frank riconobbe il mugito gutturale dei figli della terra, lo stridore dei grifoni, il rocogrido di guerra dei ciclopi. Tutti i rumori che ricordava dalla battaglia di Nuova Roma, amplificati sottoterra. Gli riecheggiavano nella testa, perfino più forte delle voci degli dèi della guerra. «Hazel, non fermarti!» ordinò Nico. Si sfilò lo scettro di Diocleziano dalla cintura. Piper e Jason sguainarono la spada, mentre i mostri si riversavano a frotte nella grotta. Un'avanguardia di figli della terra a sei braccia scagliò una raffica di pietre che frantumarono il pavimento di ossa e gemme come fosse ghiaccio. Una crepa si allargò al centro della sala, andando dritta verso Leo e Hazel. Il tempo della prudenza era finito. Frank placcò gli amici e tutti e tre scivolarono dall'altra parte della grotta, atterrando sul bordo della galleria dove era apparso lo spettro, mentre sassi e lance volavano sopra le loro teste. «Via!» gridò. «Andatevene!» Hazel e Leo si precipitarono nel cunicolo, che sembrava l'unico posto senza mostri. Frank non era sicuro che fosse un buon segno. Dopo due metri, Leo si girò. «Gli altri!» La grotta tremò. Frank guardò indietro e il coraggio svanì. In mezzo alla grotta si era appena formato un baratro largo quindici metri, attraversato solo da due strisce di pavimento di ossa. Quasi tutti i mostri erano rimasti dal lato opposto e urlavano per la frustrazione, gettando qualsiasi cosa avessero a portata di mano, inclusi i propri compagni. Alcuni tentarono di attraversare i ponti, che scricchiolavano sotto il loro peso. Jason, Nico e Piper si trovavano sul versante sinistro del baratro, per fortuna, ma erano circondati da un anello di ciclopi e segugi infernali. Altri mostri continuavano ad arrivare a frotte dai corridoi laterali, mentre i grifoni volteggiavano in alto. I tre semidei non ce l'avrebbero mai fatta raggiungere la galleria. Anche se Jason avesse tentato di trasportarli in volo, sarebbero stati colpiti per aria. Frank ripensò alla voce dell'antenato. Al crollo devi prendere tu il comando. Dobbiamo aiutarli, disse Hazel. La mente di Frank cominciò a vorticare facendo calcoli di battaglia. Vide esattamente cosa sarebbe successo, dove quando gli amici sarebbero stati sopraffatti, come tutti e sei sarebbero morti in quella grotta, a meno che lui non avesse cambiato l'equazione. Nico! gridò. Lo scettro! Nico sollevò lo scettro di Diocleziano e l'aria nella grotta scintillò di viola. Gli spettri penetrarono attraverso la crepa nel pavimento e dalle pareti, un'intera legione romana intenuta da guerra. Cominciarono ad assumere forma fisica, come per i ambulanti, ma sembravano confusi. Jason gridò in latino, ordinandogli di serrare i ranghi e attaccare. I non morti si trascinarono fra i mostri, provocando un momentaneo parapiglia, che non durò molto. Frank si girò verso Hazel e Leo. Voi due andate avanti! Hazel sgranò gli occhi. Che cosa? No! Dovete! Era la cosa più difficile che Frank avesse mai fatto, ma sapeva che era l'unica possibilità. Trovate le porte della morte! Salvate Annabeth e Percy! Ma... Leo lanciò un'occhiata sopra la spalla di Frank. Giù! Frank si tuffò a terra, mentre una raffica di pietre schizzava sopra la sua testa. Quando riuscì a rialzarsi, tossendo e ricoperto di polvere, l'entrata della galleria era sparita. Un'intera sezione della parete era crollata, formando una scarpata di detriti fumanti. Hazel! Frank aveva la voce incrinata. Doveva solo sperare che Hazel e Leo fossero vivi dall'altra parte. Non poteva permettersi di pensarla diversamente. Si sentì ribollire il petto di rabbia. Si girò e andò alla carica contro l'esercito di mostri.